Salve ragazzi, io sono Castoro. E io sono Rolè. Ben tornati sul Random Steam CDK. Quest'oggi facciamo le 5 chiavi random. Eh... Ah, stai... Ah... Allora... Adesso abbiamo un castoro sulla scrivania. E di qua abbiamo pure un brocione che sta sul castoro. Allora, come ben vedete, il castoro rispecchia me perché è grasso, c'è la coda. E io che sono il fratello più piccolo, c'ho il brocione piccolo. Sì, ma perché non l'ho trovato obeso, quindi... Vabbè, vediamo giù un allor. L'allor dei pupazzi di Castoro e Procione. Vabbè ragazzi, quindi come ci hanno già detto i nostri amici pupazzi, ci sono le 5 chiavi random. Quella è la premium. Siamo diventati letteralmente dei dementi. Prima eravamo 90%. Adesso 101%. Ok, come ben vedete la schermata, dobbiamo fare ottieni le CDK. Già ho pagato profumatamente 5 euro e 51 centenze. Ci sono sempre quei 50 centenze di più che non si sa da dove. La transazione. Il pagamento della transazione nel posto perché si vende la ratta. Ah... E quindi parla con GoP. Dobbiamo prendere un ratto come questo, vedi? Ma non mi hanno dato, è un brocione. Vabbè... Si mantiene. Ok. Il mio brocione. Ok. Ma vado ai pupazzi, mettiamo qui in mezzo anche se non si vedono. Eh vabbè non fai niente. Vabbè. Eh si cazzo. Ma mi ha fatto una cosa bella. Ho pensato, avrà un'utilità questa Collector Edition che non si vede mai nei video. E' perché ci sono i fari che riflettono. Vabbè ragazzi, usiamo il sostegno. Il messimo gioco, ottimo appoggiapupazzi. Grazie. Ok. Eh si mantengono giusti giusti, guarda. Io non vedo un cazzo però non fai niente. Ma le mie non le mie in effetti. Non ci vede le mie. Le mie in effetti. Ok dai. Le mie in effetti. Le mie in effetti. La cosa è davanti. Perché c'è il culo prossimo. Ah ok. Il sostegno. Il principio di registrazione ancora non facciamo nulla. Cosa è successo? Io non sono un robot, sono un gastronom. Ok. Si dicevo. Io ho un Chrome e già ce l'abbiamo. Cioè The Legend of... Si berri a 2 a parte. Ah no è schifo. Se è The Legend of Pezzottama. Cioè tipo un Legend of Zelda Pezzottama. Si berri a 1. Vabbè quest'oggi non faremmo vedere questo gioco. Probabile. Ok. Aspetta. Like Bay Asylum. Eh questo... Ha fatto Zen. Ha fatto Zen. E dopo lo proviamo. Ok vediamo. Vabbè. Comunque riscattiamo. Scriviamo. Che riscatti? Scriviamo prima? Ma io non vedo adesso. E io vedo. Allora ci sta. È vicino così. Aspetta. Caccate. Oddio. Allora ci sta Neon Chrome. Ok Neon Chrome ce l'abbiamo è anche un bel gioco. E lo regaliamo. E quindi. Si è andata di culo. Ricordiamo. Che Neon Chrome è un roguelike come The Binding of Isaac. Però futuristico con i fucini. È molto... Prendetelo perché è un bel gioco. Anche in Coop fino a 4 si gioca. Quindi... Siberia 2. Siberia 2. Ragazzi ormai... Basta. Avete l'abbonamento con Siberia. Legend of Hero Trails in the Sky. Mai sentito. Ok questo lo proviamo. Eh. Siberia. Cioè siberia. Ve lo regaliamo di nuovo. Basta. Prendetelo. È Black Bay Asylum. Siberia nessuno li... Sì secondo me se andiamo con i video vecchi e proviamo a riscattare i vecchi siberia comunque ce li danno perché nessuno li vuole più. Ok e proviamo anche Black Bay Asylum. Asylum. Io l'ho sentito ma non so cosa sia. Secondo me l'ha fatto Zeb ok. Facciamo prima questo. Black Bay Asylum. Ok proviamolo. Oddio. Si l'ha fatto Zeb questo gioco. Ma che? Ma quello è un job ad act molto pezzotto. No questo è quel gioco di merda che c'è un downframe. L'abbiamo fatto stesso. Oddio. Abbiamo riscattato lo stesso gioco. Ah perciò stava già con i preferiti. Ah bravo. E quindi mi sa che pure regaliamo pure questa... Vabbè chi cazzo se la prende? Adesso il gioco non va. Vabbè ma non possiamo... Non l'abbiamo... No non l'abbiamo riscattata perché se la riscatti ti dice questo gioco ce l'hai già. Ah. Quindi ragazzi vi tocca un altro gioco. Vabbè quindi? Vabbè. Quindi... E' vostro prequest. Certo. E dobbiamo provare The Legend of Heroes. Trails in the sky. Eccolo qua. Ehm... Ferma il download di quel cesso. Grazie. Un secondo. Mr. Procione. Oh mio Dio che schifo no. Ma magari questa volta funziona. Che ne so. Ma che funziona? Vaffanculo. Attiva un prodotto esistivo. Vai. Vai accetto. Trails in the sky. Vaffanculo. Avanti. Possiedi già. Ma come i possiedi già? Ce l'abbiamo proprio quest'altro. Ma dai. Come si chiama? Delegge è un virus si chiama. Ah eccolo. Eccolo qua vedi? Dove? Questo qua. Che gioco è questo? Eh non me lo ricordo. Ah mi si è accanto già che RPG. Vabbè ragazzi. E' arrivato il giorno. Il giorno dove con giochiamo anche su un gioco. Vabbè devo giocare di cose. Oddio. Vabbè. Ci sono successe cose. Se volete. Tutti questi giochi. Sono vostri. Sono vostri. Addio. Non c'è questo gioco? Me lo riscatto. Ah secondo me dobbiamo trovare un altro sito per le chiavi random. Perché G2 ci dà sempre gli stessi. E che cazzo che so? Tipo. C'è quel XNK. Vabbè poi lo troviamo nel prossimo episodio. Lo facciamo con qualche altro sito. Mi ricordo. Che se volete comprare qualcosa. Nel link sotto il canale. Ci sta il link per comprare. E cliccate dalla stronzi. Vabbè se comprate qualcosa. Ci arriva forse un centesimo. Mezzo centesimo. Mezzo centesimo. Ogni cento euro che spendete. E cosa possiamo fare? No no no. Un canale di videogiochi questo. Dobbiamo videogiocare a qualcosa. Ta tan tan. Ta tan tan. Aaaaaa. 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 Nooo. Guarda. La luce. Cazzo. Abbiamo colpito il lampadaria. Castoro. Win. L'abbiamo vinto. Vabbè. Oggi abbiamo giocato a Castoro contro Procione. Bene ragazzi. Per garantire almeno un gioco. Almeno si spera di garantire. Noi ci proviamo. Abbiamo acquistato. La chiave. Una chiave. A due euro. A due euro. A due euro e cinquata. A due euro e cinquata. A due euro e cinquata con le tasse. Ottieni. Ma esci bene. Esci bene. Se esci bene ammazzo Castoro. No. Speriamo che esci un gioco decente. Pecca. Veicoli. Eh. Veicoli. Vabbè. Penso che sai cos'è un veicolo. Eh infatti no. Non lo sai. Ha handicappato un secondo. Space Farmers. Che cazzo è? Un gioco. Questo. Non l'ho mai sentito. In questo senso che lo scriviamo. No. Riscatta solo la chiave. Non l'ho mai sentito la chiave. Eh. Volevate la chiave. Vabbè. Comunque. Ci siamo riusciti. Proveremo almeno un gioco. Per. Si spera. Si spera sempre. Che funziona questo gioco. Cioè. Almeno. Per rimanere in tema. Sai come è un canale gameplay. Che è sta roba. Steam. Novità. Ma che cazzo. Chiudi. Nella sp. Nella sp. Space Farmers. Eccolo qua. In sala. Oddio. Sembra quasi un gioco. Oh mio Dio. Un gioco di verde. Un gioco di verde. Esatto. Allora. 400 mega. Andiamo nella pagina del negozio. Vediamo cos'è. Paginetto del negozio. Viene un po' più qua. Procius. Non c'è sapere. Aspetta. Oddio. Recensioni molto positive però. Ok. Arc sempre. Ovvio. Ok. Molto positivo. Perché c'è un maiale cubettoso? Lascia stare. Perché ci sono maiali a cubetti? Siamo tutti a cubetti. Immagini. 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 Io non ho capito nulla di questo gioco. Non lo so. Coop locale. Facciamo un coop locale. No. No. 10 euro costa addirittura. Addirittura. Schermondi. Secondo me è un bel gioco. Tutto così. Oddio. Oddio. Figato un certo punto. E a legge molto divertente. Molto divertente sei un amico. Ma secondo me nessuno con cui giocarci comprendetelo. Perché oggettivamente è veramente pessimo. Voto 3 su 10. Vai. Preso da 5 euro. Ci avranno un premio CDK su G2A. Sicuro. Una copia del gioco è veramente a prenderne due. Una per sé e una per un amico. Siccome non ci sono giocatori. E l'unico modo per giocarci è appunto quello di invitare un amico. Ah. Quindi dobbiamo giocare per forza. Affanculo. Vabbè ci ho giocato poco. Ma non è nulla di eclatante. Lo consiglio a coloro che hanno un po' di soldi da buttare. E giocare in compagnia che bla bla bla. Proviamo. Dai vediamo un po' che succede. Bene ragazzi. Ha scaricato. Ok. Questa era tutta quell'eccitazione. Proviamo. E finalmente si gioca con qualcosa. Eh. Siamo registrati da 35 minuti. Eh. Questo è simbolo di qualità. Eh. Fantastico. O a 0 frame. Sì. Crash e PC esplode. Bump King Brothers. Io non sento niente. Neanche io. Ok. Questo è un ottimo indizio. Ok. Quindi c'è un nuovo audio. Da quello che sappiamo. Ah. No aspetta. Tu. Hai. Che cazzo è sta cosa. No aspetta. Eh. Che stai combinando. Hai mutato. Prima quando è caduto sto coso. Hai mutato l'audio. Ecco. Vedi. Perché non me lo dici. E me ne sono ricordato poco. Sei raggiuntamente. Eh. Vabbè. Speriamo di star registrando. Comunque io direi di abbassarlo. Tantissimo. Connexion option. E che cos'è. Ah. Non lo so. Nelle opzioni. Vabbè. Start game. Random game. E penso che sia tipo online. Internet game. Land game. Splits screen. Ah. Non si può giocare in singolo. Quindi penso. Ok. 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 Aspetta. Ma vaffanculo. Come si. Vabbè. Ready. Che è qua. Non è. Pirate. Ah. Ok. Si. Si devono comprare. Allora. Io sto stortissimo. E che cosa è questa cosa? Non lo so. Rung. Bomb beat. The gloves. Side step. Vabbè. Ci dice gli obiettivi. Insomma. Ok. Madonna cara. Oddio. Aspetta. Non si capisce un cazzo. Qui c'è un bottone. Vabbè. Il mio schermo è questo. Aspetta. Oddio ho preso qualcosa. Ok. Il mio schermo è quello a destra. Si. Tu sei a destra. Aspetta. C'è sul bottone là. Vai. Vai sul bottone. Che cos'è questa cosa? Ma che ne so. Oddio. C'è qualcosa che mi sta attaccando. Ah. Ok. Ho preso un fucile. Ok. È tipo. È tipo un gesso. Ma che schifo è. Ma ci sono delle monete rapa. Ma. Perché. Hanno messo positivo alle recensioni. Eh. Infatti. Come. Come si può mettere. Oh. Ma che sosti così. Aiuto. Ma che è morto. Perché non ha preso la moneta. No. Sì. Ma. Non dovevano fare. A schermo condiviso. Cioè. Dovevamo fare uno schermo. Ma che è sta roba. No. E non c'è nulla. Ho provato già. Io sparo sempre. Qui ci sta un. Vai. Oh patatern. Perché. Oddio. Sono morto. Rip. Ah. Ma ricominciamo. Eh. Devi prendere l'arma. Scemo. Allora. Premi due il bottone. E io comincio a scappare. Attendo a sti cosi che scoppiano. ti spara tutto nuovo. Aiuto. Che è sto coso qua che giro. A rotellino. Ma. Passa pure quei cosi. E' ovvio che passa pure quei cosi. E' ovvio che passa pure quei cosi. Aiuto. scappa. Brutto grosso. Agia. Agia. Aiuto. No. Di qua non si passa. Si che si passa. Di sotto non si passa. Ah. E tu sei scemo. Ok. Devevo andare. Eeeh. Che f***ito tutto. Ma vaffanculo. Ok. Sto gioco fa schifo. Vedrete. Non giocarci mai più. Vediamo almeno prima. Guarda. Togli tutto qua. Prendi quelle monete. Eh. Mi ha quasi ucciso. Guarda la mia vita. Vai giù. Che cagione. Vai. Di qua. Che canzoncina è questa? Ok. Ce l'abbiamo. Vai avanti. Vabbè. Canzoncina da cowboy. Uh. Achievement. Ah. Io c'ho le bombe adesso. Ok. E io c'ho. Sto coso. Che non so cosa sia. Cosa. Cosa ti ho buttato? Non lo so. Oddio. Oddio. Salgo su sta cosa. Eeeh. Ok. Mi hai ammazzato. Aspetta. Ah. Aspetta. Tu hai le bombe. E io le faccio sconcare. Aspetta. Vediamo qua. Se si rompe. Vai. Ok. Che figata sta cosa. Vai. Toll. Falla atterrare almeno. No. Ok. 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 Questo gioco è un gesso. Possiamo confermare. Ma dai. Ma non muore. Ma poi. La devi far atterrare un po'. Non mi fa sconcare. Aspetta. Vai. Ma che esplosione. Ah ah. Era meglio di neon chrome. E' infatti. Molto meglio. Eeeh. Qua c'è un segreto. Vedi. Oh aspetta. E' adesso abbiamo le levi. E' sembrano un pisello. E' sembrano un pisello. Cosa? Sembrano un pisello. Ah ah. Adesso adesso spara. Aspetta. Facciamo spara. Bravo. Pfff. Ok. Allora io direi di congiocare me più. Va bene. Però c'erano i segreti. L'ho intuito dal. No ma mi sa che si doveva prendere apposta. Perché poi dovevano sparare a qualcosa. Non lo so. Vabbè comunque quit game. Addio. Ho detto quinto. Vaffanculo. E' rotta proprio assoluta. Allora. Voglio sapere. Voglio sapere. Molto positivo. Perché me lo deve dire. Vabbè comunque ragazzi. Per oggi è tutto. Avete visto il castoro e il brogione. Abbiamo un castoro. E' un brogione. Che da oggi in poi saranno le nostre mascotte. Saranno sulle nostre spalle così. Giochiamo così e non giochiamo più. Ok. Ci serve dello scotch. No. Mi si mantiene. No. Vabbè. 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 Non so proprio qui. Ok. Avrete sentito un bordello esagerato. Ma va bene. Non fa niente. E quindi per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Cielo.